Tre colonnine per la rilevazione della velocità e un semaforo a chiamata pedonale sono gli interventi attuati in questi giorni lungo la strada provinciale 16 o robica all'altezza dell'abitato di Albosaggia. Si tratta di dispositivi volti a ridurre il rischio di incidenti stradali e di comportamenti pericolosi da parte di chi transita in questo tratto di strada all'interno del centro abitato, dove vige il limite di velocità di 50 km orari, spiega il consigliere delegato Mirko Rovedatti, che completano di fatto un progetto più ampio avviato poco più di un anno fa con la posa dei semafori di intersezione lungo la SP16 in via Caselle. Gli interventi sono stati proposti dall'amministrazione comunale di Albosaggia allo scopo di mettere in sicurezza la circolazione e disincentivare attraverso il controllo da parte delle forze dell'ordine comportamenti rischiosi da parte di chi transita. I risultati positivi rilevati dopo la posa dei semafori di via Caselle sono attesi anche dalle nuove colonnine e dal semaforo a chiamata che permette un collegamento pedonale sicuro in località Cadelnavet.